Si aspettano i colpi di Inter e Juventus, parliamo di questo argomento in apertura del punto di tutto mercato web e ne parliamo con Simone Lorini, Rolando che potrebbe andare alla Juventus, Podolski resta un obiettivo caldo per l'Inter anche se Wenger sostiene di volerlo ancora all'Arsenal. Sì, loro innanzitutto Juve e Inter stanno cercando entrambe un attaccante, un attaccante con esperienza internazionale importante. L'Inter sembra essersi inserita su Shakiri, che era un obiettivo della Juve e la Juve a sua volta sta tentando un'operazione di disturbo per l'Avezzi da diverse settimane obiettivo dell'Inter e in rottura con il PSG. Tuttavia entrambe le operazioni non sembrano molto vicine alla chiusura. Ben più vicino invece è Lucas Podolski dell'Arsenal, sebbene le parole di Wenger e di stamane non vadano in questa direzione. Infatti il tecnico dell'Arsenal ha affermato che conta su Podolski, lo vuole tenere all'Arsenal, ma sembrano tuttavia schermaglie di poco conto. Per quanto riguarda Rolando, la gente in mattinata ha affermato che l'operazione con la Juventus si potrà fare solo a titolo definitivo e non in prestito, escludendo quindi un arrivo immediato del giocatore in bianco-nero. Parliamo anche del mercato della Roma, degli obiettivi del club giallorosso. C'è chi sostiene che dietro al mal di pancia di Ibrahimovic ci possa essere proprio la Roma. Simone Bernabei. Sì Lorenzo, la notizia è emersa in mattinata. Lo svedese si sarebbe un po' stufato dall'area di Parigi, in fondo ci ha abituato ogni due o tre anni a cambiare squadra, a cambiare città. L'ipotesi giallorossa c'è, vedremo per giugno se il DS Sabatini riuscirà a tessere questa tela, complicata ovviamente per i costi, però sicuramente affascinante. Sabatini che intanto sta lavorando sul mercato di gennaio, l'obiettivo oltre al difensore adesso è il riscatto di Nainggolan dal Cagliari, perché le pretendenti, soprattutto dalla Premier League, non mancano, ma la Roma, Garzia lo ha dimostrato sul campo, non vuole assolutamente fare a meno di Nainggolan. C'è grande attesa anche per le mostre di mercato della Fiorentina, caccia di un rinforzo per l'attacco, ma devono essere risolti anche i casi relativi a Neto e a Ilicic, Ilicic che potrebbe essere una pedina di scambio con la quale arrivare ad altri giocatori. Ne parliamo con il vice direttore di FirenzeViola.it, Andrea Giannattasio. Per quanto riguarda Neto, sicuramente la situazione è particolarmente intricata. Noi siamo fermi a quelle che sono le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, al termine della gara contro l'Empoli. Neto è sfuggente, sicuramente questo è l'aggettivo più adatto al momento, visto che poi ci sono state anche le soste natalizie, il giocatore è tornato in Brasile, adesso si trova in Italia dove ha ricominciato ad allenarsi. La sensazione è che qualche cosa di nuovo possa esserci nel momento in cui arriverà a Firenze. Anche il procuratore del ragazzo Stefano Castagna, insieme poi al padre, che ha grande voce in capitolo per quanto riguarda il futuro del figlio, ovviamente sicuramente la situazione resta comunque molto molto intricata, anche perché la Fiorentina è ferma sulle sue posizioni da un punto di vista economico. Non vuole salire oltre quell'offerta di 1,6 milioni che ha offerto al giocatore. Ci sono tantissime altre squadre, Roma e Liverpool in particolar modo, che sono interessate al brasiliano. Rimane una situazione veramente scottante, vedremo, ripeto, se ci saranno novità nelle prossime ore. Per quanto riguarda Ilicic, il procuratore quest'oggi a Firenze, Viola.it, ha sottolineato come si è previsto un incontro con la dirigenza della Fiorentina prima dell'Epifania, quindi prima della ripresa del campionato. Anche in questo caso la Fiorentina ha intenzione di valorizzare il più possibile un giocatore che comunque ha pagato 9 milioni di euro soltanto un anno e mezzo fa. Non sarà facile, perché poi quello che è stato l'andamento delle stagioni di Ilicici a Firenze è un po' sotto gli occhi di tutti. Il Torino credo che possa essere ancora oggi considerata come l'ipotesi più probabile per il futuro del giocatore sloveno. Parliamo anche di calcio internazionale, lo facciamo con Marco Conterio, perché il Barcellona per due stagioni fino al 2016 non potrà fare mercato, ricorso respinto, questa è una notizia non di poco conto. Notizia importante che riguarda il Barcellona, ma che riguarda anche il mercato internazionale, perché il TAS ha respinto il ricorso da parte della società Blaugrana, ricordiamo non ha potuto fare mercato, non potrà fare mercato quest'estate e questo inverno non lo potrà fare neanche la prossima estate, per irregolarità che c'erano state sui tesseramenti di minorenni ed extracomunitari un giovane coreano e anche altri calciatori. Questo cosa vuol dire che sicuramente si complica l'uscita di Montoglia e qua magari andiamo sul mercato della Juventus, difficilmente libererà un terzino già adesso a gennaio, giocatore che peraltro è anche rinnovato, e rinnoverà probabilmente il contratto a Dani Alves, perché se non può fare mercato la prossima estate, Alternative Douglas che non è certamente un campione o il vice Dani Alves che speravano, una bruttissima notizia per il Barcellona, che sicuramente la prossima stagione ci saranno le elezioni del Presidente, ci sarà un grande cambiamento anche in quel senso, credo che poi l'era adesso di Bartomeu di Zubizarreta sia definitivamente finita con questa sentenza, si apre una nuova stagione per il Barcellona con il piede sbagliato, anche se davanti ci sono Messi, Neymar e Suarez, e poi c'è la Masia che almeno un po' di comporto con i talenti della dà.